Non dobbiamo preoccuparci di quelli che invece pongono un tema social. Mi farei ascoltare su questo punto. La seconda grande questione è questa. È in atto una missione di cui possiamo dare soltanto alcuni dettagli. È stato lanciato un appello nel pomeriggio. L'appello è quello di portare il dottor Bambalau, che è un capo di Stato nei nostri studi di Radio 24 a Roma. Abbiamo predisposto un servizio di scorta per andare a prelevare il dottore presso il campo Rom nel quale si trova, nel quale alloggia, nella residenza privata, chiamiamola così, la residenza privata. Formalmente è la residenza privata. La residenza privata è il dottor Bambalau. Stiamo mandando degli uomini di nostra fiducia a ritirarlo, così non paghiamo neanche l'NCC, il nolo con conducente, visto che il mio solito autista, il dottor Pino Mosca, al quale lancio un grande saluto e abbraccio forte, è impegnatissimo in altri servizi, è impegnatissimo in altre vicende, quindi non può andare a prelevare il dottor Bambalau. Abbiamo predisposto una grande rete sociale, una rete di solidarietà, e quindi alcuni volonterosi tassisti della città dell'Urbe si stanno recando in loco, stanno prelevando il dottore. Possiamo sentire anche le sirene, forse. No, ancora no. Possiamo. No, 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 dopo. Possiamo. Questa è la notizia che diamo. Questa è la notizia. Forse, già a far sentire, forse. Oddio, forse. Io farei sentire, farei sentire. Ma queste sono le sirene, queste sono le sirene, sì è vero, sono le sirene di chi si sta recando, di chi si sta recando per scortare Bambalau. Ascolti, il dottor, il dottor Bambalau presso gli studiatori. Porro, porro, porro sulla questione dei residenti. Sulla questione dei residenti. Porro, mica è un rom. Sulla questione degli studenti e le tende, senti. E poi fammi dire una cosa sulle nomine Rai, perché veramente il fatto che non giri il nome di Bambalau è una vergogna. La vera cazzo di pavidità culturale. Perché dobbiamo discutere di una cosa che è ovvia? In prima pagina, in prima pagina, sul Libero, non solo sul Libero. Ma io me ne fre... Carabiniere che è il sposo col picchetto d'olore, ho capito. Ma appunto, Libero, ma è Libero, Libero! Ma non solo, non solo, anche il Corriere. Comunque, il Corriere è un giornale, non dico eccezionale, dico di più. Cioè è un giornale che ha una tradizione, edito da Cagli, ragazzi, ma oltre a edito da Dottor Cagli, è dal 1876, ha dei direttori, delle firme strepitose, di cosa stiamo parlando? Per sposarsi in grande uniforme, con annesso aspetta, per sposarsi in grande uniforme. Tu sei bravo a montare dei casi, perché tu adesso apri le telefonate, chiamerai qualcuno che ha... Già ieri, già ieri, già ieri. Sì, ma sei specialista nel fare... Che contributo dai alla discussione tu? Nessuno, uno ascolta qua e diventa, si arrabbia, diventa ancora più nervoso quando ti ascolta, quando ascolta questa modalità di porre la discussione. Tu non è che fai una discussione intelligente, in cui dici, vabbè, sentiamo storicamente cosa ha rappresentato i carabinieri nella storia d'Italia. Cioè devo fare la storia dei carabinieri. Sarebbe meraviglioso, sarebbe meraviglioso. E invece tu che cosa fai? Tu scateni, dai l'offa di pane, metti delle persone da litigare, mi fai incazzare da morire perché mi contrapponi delle persone che mi fanno girare i coglioni in modo vortico. E lo fai apposta, io me ne sono reso conto adesso. Lo fai apposta. Tu apposta mi scateni questi maledenti. Mi vuoi portare in tribuna. Io ti ho già... Volevo annunciare questo. Neonazisti, vetro-nazisti, erotomani, fascisti e comunisti reazionari, filoputiniani antisemiti, satanisti e nord-vax infogliati, pornografi e baciapille, camionisti intruculenti, gente che parla con gli ufo, con le viscere degli abbacchi e con lo spirito santo. E ce ne è continuo a lungo. Grandissimo il direttore Mieli. Posso dire che ho massima stima anche per il direttore Mieli? E posso dire che non ho nessuna stima per le persone che chiamano qua? Ma anche tu dovresti dirlo. Tu ecco, se ti dicessi, da una parte c'è Paolo Mieli e dall'altra quelli che chiamano qui. Quelli che chiamano, quelli che chiamano. Ma tu sei una persona vergognosa. Quella è l'Italia vera, quella è l'Italia vera. Tu ti devi vergognare. Chiama Bambalau, vedi un po' se ha un buon punto. Vediamo a che punto è il dottore, aspetta. Mettiamo sempre il numero nascosto perché non vorrei mai che avessero nel campo l'ombra il mio numero. Bambalau. Vai, vai. Aspetta. Chiamiamo noi, chiamiamo noi. Sì. Vai, rispondi tu, eh. Sì, sì. Bamba, dove sei? Ehi, Parenzo, Radio 24, Confindustria. Ma sto qua da voi, dove stai? No, ma da voi. Da qua da noi dove? Sei arrivato, sei arrivato già. Sei già arrivato, bamba? Sì, sto qua sopra, al piano 2. Al piano 2. Al piano 2. Vengo ad aprirti subito, Bambalau. Aspetta. No, aspetta. Vengo ad aprirti. Manda qualcuno, manda qualcuno. No, non c'è nessuno. Fratello, aspetta. Gravissimo che stai aspettando. Un capo di Stato non si va ad aspettare, porca puttana. Arrivo ad aprirti, bamba, subito. Aspetta, filmo tutto, aspetta che riprendo tutto. Voglio fare una diretta sulla mia pagina Instagram. Compatti, Davide. La cosa incredibile. Aspetta, aspetta. Salvatore da Napoli, vai Salvatore, dimmi. Dimmi, Salvatore, dimmi. Dimmi, Salvatore. Eccolo! Dimmi, Salvatore. È entrato Bambalau, fallo accomodare. È grandissimo Bambalau! Fallo accomodare, fallo accomodare. Vieni, accomodati qua, fratello. Aspetta. Dimmi, Salvatore, dimmi. Ma dobbiamo fare... Come stai? Numero uno. Pronto? Sì, Salvatore, dimmi, dimmi. Ti dico solo che ieri, come sempre, ti ho risposto anche greggiamente un po' male. Sì. Perché tu, io sono napoletano, non tipo Napoli, ma sono orgoglioso di essere napoletano. Sì. Tu hai messo il fatto che hanno rubato due Honda, due motore Honda, è sbagliato. Ma se vedi che con questa festa dello scudetto, Napoli è stato promosso perché non è successo niente, sono divertiti tutti. E chi ha detto niente al contrario? Io non ho mai criticato, non ho mai criticato la festa e non ho mai criticato, Salvatore. Mi vergogno di Salerno, Avellino. Aspetta, mi vergogno di Salerno, Avellino. Non è mico obbligatorio, per forza, non è mico obbligatorio. Eccoci qua, eccoci qua, in diretta con Bambalau. Siamo quasi per partire, eh, amico mio. Guarda, questa gente qua, che vedi, ti ama. Ti amano tutti ormai. Guarda. Guardami. Avvicino il microfono, Bambalau. Sì, certo, ce l'ha vicinissimo, ce l'ha. Eccoci, eccoci qua. Eccoci qua. Devo fare una foto anche, perché sennò... Oh mamma mia. Lo sanno tutti, lo sapranno i tuoi amici, lo sanno tutti chi. Tutta Napoli, ho portato la lupa. Senti? Ma nessuno dice... Sì, senti adesso? Senti Cruciani? Eccolo qua. Tutto in diretta con il dottore. Siamo a mille visualizzazioni, 1064. Mamma mia, ragazzi. Che emozione, giornata storica. Chiudi, chiudi sto coglione. Scusi un attimo, Salvatore. Scusi un attimo, Salvatore. Via. Queste cazzate che non mi interessa, questo tifo ridico. Non mi interessa. Eccoci qua. Da Avellino a Salerno hanno tutto il diritto di festeggiare, di fottersene e anche di incazzarsi. Chiudi che c'è il dottor Bambalau qua. E' un bambino, un minore di sei anni ti prendi la bandiera. Ma che c'entra? Quella è violenza. Che c'entra? L'hanno fatto pure a San Severo, a Foggia, a Cerignola. Aspetta che devo presentare Bambalau. Musica, 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 musica. Allora, ha fatto il suo ingresso negli studi di Roma, il mitologico Bambalau. Buonasera. Eccolo. Buonasera, buonasera. Eccolo. Ti posso dire, posso dirti subito una cosa. Sono bene, grazie. Sono emozionato. Sei emozionato? Sono davvero emozionato. Sono emozionato perché per me è una giornata importante. Si corona un sogno. Cioè l'idea di avere... Eccolo qua. Buonasera, benvenuto nello studio di Radio 24, porta a porta. Il dottor Bambalau. Cassazione, quando tu... Bambalau, io voglio darti del lei. Dimmi caro. Hai un ruolo fondamentale in questo paese. Io la prima cosa che voglio dire è che nella prossima stagione televisiva tu dovresti essere al posto di Del Debbio, secondo me. No. Devi condurre tu. Eh, no. O devi co-condurre, co-condurre. Tu e Del Debbio quel programma. Allora, io voglio subito fare una domanda a Bambalau perché Parenzo ogni tanto esagera. Caro Bambalau, ti faccio subito la prima domanda. Grazie di essere qui, grazie di essere entrato negli studi di Confindustria, negli studi di Radio 24. Grazie a te. Tu sei una persona moderata, cioè un rom moderato. Sì. Che non sopporta i rom che rubano. Però mi devi dire sinceramente, hai mai rubato in vita tua a Bambalau? Dillo a me, cruciale, che sai che sono un tuo amico. Dimmi. Vabbè, può essere capitale. Sì, abbiamo rubato quando ero piccolo. Come? Avevo 7, 8, 9 anni. Ma sì, ma avrei rubato mille lire, 20.000 lire. No, abbiamo rubato i soldi, abbiamo rubato ciliegie. Ciliegie? Ciliegie. Ciliegie non è reato rubare ciliegie, oro mai, non hai mai rubato oro. Mai. Come giudichi? Da dove arrivi tu? Da quale paese? Romania. Dalla Romania. Grazie per essere venuto qui, posso dirti grazie? Sì, grazie perché mi avete invitato. No, per essere venuto in Italia, voglio dirti, grazie per essere qua. Sì, sì, sto in Italia da 30 anni. E tu sei italiano? Sì, adesso... No, bisogna urlarlo, Bambalau è italiano come Giorgia Meloni, come Lolo Brigida, questo bisogna dirlo subito. Scusa, Bambalau, da quanto è che sei italiano, Bambalau? Sto in Italia da 30 anni, caro mio. Eh, ma da quando sei italiano? Ma se hai il passaporto italiano, hai la cittadinanza italiana? No, caro mio, non c'è il passaporto, ma penso se vado a fare la richiesta che mi la danno. Perché non vuoi diventare? Perché non vuoi diventare? Perché ancora non sei italiano? Eh, perché... Perché sono diventato europeo, comunitario e non mi serve più la cittadinanza. Ecco, possiamo dire, caro Bambalau, ti sento anche un po' dimesso oggi, non so che ti è successo. Stanco sarà. Sei stanco. Come è andato il viaggio? Tutto bene? Sono venuti a prendere? Sì, tutto a posto. Ti hanno scortato fino a qui, tutto a posto? Sì, caro mio. Allora, posso dire una cosa? Caro Bambalau, posso farti subito una domanda? Vogliamo fare una condanna subito chiara di quelli che vanno a rubare nelle metropolitane, che vanno a rubare nelle case, eccetera? È una schifezza, lo devi dire. I Rom, non sono solo i Rom, naturalmente, che si comportano così, fanno schifo. Dillo chiaramente, lo so che tu qua lo puoi dire, anche se hai un pericolo, se per te è un pericolo, perché so che è un pericolo dire queste cose, però devi dire che la devono smettere di rompere i coglioni alle persone, nelle case, nelle metropolitane, eccetera. Ma non sono i Rom solo. Dimelo chiaramente. Luciani, se tu mi fai questa domanda, io non ho paura e per me non c'è nessun pericolo, perché tutti che ragionano nella maniera giusta e corretta, quando i Rom fanno delle cose brutte contro questo paese, contro gli italiani, noi dobbiamo prendere atto e la legge in Italia non funziona molto meglio, dobbiamo mandarli via da questo paese, quelli che creano problemi a italiani. E' la stessa cosa che dico Salvini praticamente. Bravissimo, fermi tutti, fra pochissimo torniamo, fermi tutti. Rimani qui con noi. Il 9 giugno a Bologna. Grande, grande Bambalau, ha scelto, finalmente ha scelto, ha scelto Cruciani, Bambalau, uno di noi, uno di noi. Mamma mia, che manovra poi, io gli fai, dico sei uno zingaro, c'hai ragione Cruciani. E' quell'altro, no, che vuole fare come Biden con Zayen, che gli faceva le promesse. Ti mando al TG2, piante dosi, ma vaffanculo Parenzo. Grande, grande. Bambalau, tra un po', lo sentiremo a parlare di Cuccol, anelli al cazzo, rimming, e roba così. E' diventato un Cruciagnano, grande. Bambalau, uno di noi. Con senso pazzesco. Allora, abbiamo l'onore di avere il studio a Roma. Che è successo? Mi scrivono importanti dirigenti, mi dicono abbraccio a Bambalau, anche da parte mia. solo emozionato che abbia solcato l'edificio di Radio 24. Quindi vedi che, Bambalau, stavamo parlando di una cosa importante. Cioè, Bambalau mi stava raccontando che questo campo dove lui vive funziona perché lui è riconosciuto come autorità. E certo, presidente del tribunale. Quando c'era lui che lo governava, quante bambine andavano a scuola? Diamo le percentualità. 98% percentualità scolastica. Adesso vanno a scuola solo 20%. Non capito? Perché non governa lui. Questi sono i dati. Forniamo altri dati per piacere. Quando c'è i furti. Quando governava Bambalau, quanti furti c'erano? Lì dentro non c'era la criminalità, la delinquenza. Abbiamo detto. 2%. Adesso è salita a 40%, 50%. 40%, 50%. Questi sono i numeri di chi governa. Ho capito, però. Quanto governava lui? Caro Bambalau, quello però non è terra di nessuno. Quegli dovrebbe governare lo Stato italiano. Lo Stato italiano dovrebbe governare dentro quel campo. Che stai dicendo? Comunque. Quando c'era lui? Cruciani. Dimmi, caro. Siamo stati, caro mio, abbandonati dalla forza politica di questo paese. Prima abbiamo avuto un buon rapporto con le forze politiche, con le forze d'ordine, con le parti sociali di questa città. Siamo stati abbandonati da un paio di anni. Non abbiamo nessun interlocutore col comune e con questa legislatura. Scusami, è un'accusa gravissima. Il 98% dei bambini quando governava lui andavano a scuola. Governa la destra e vanno solo 19. Al comune c'è la sinistra. Posso dirti, caro Bambalau, posso dirti una cosa? Allora, mi devi rispondere ad alcune domande. Tu che lavoro hai fatto nella vita, caro Bambalau? Quanti anni hai? 62. 62. Che lavoro hai fatto nella tua vita? In Romani abbiamo lavorato meccanico, dopo la caduta del muro di Berlino abbiamo lavorato quattro anni commissario di polizia militare privata, non del ministero dell'interno o quello della difesa. Si capisce che lì hai appreso il know-how che ti fa diventare oggi il nostro piantedosi. Allora, caro mio, in Italia abbiamo lavorato 15 anni. Un'associazione che sta vicino qua da voi. Arci Solidarietà, abbiamo lavorato 15 anni portando i bambini in Roma alle scuole del municipio dove vivo io. Portava i bambini a scuola, lavorava con l'Arci. Era pagato dalle associazioni. Però posso chiederti una cosa, tu sei per esempio favorevole alla pena di morte? No. No. No, sei contrario alla pena di morte? Sì, caro mio. Sei il contrario. Sei il presidente del Tribunale Roma all'interno del campo. Che succede quando scoprite che c'è un ladro all'interno del vostro campo? Che fate voi del Tribunale? Tu sei il presidente del Tribunale Roma. Allora, caro mio, noi cerchiamo da prendere questo uomo. Sì, prendi. Parliamo con lui. Sì. Calmati, non rubare, non portare la polizia qua. Come non portare la polizia? Se un'altra volta succede, ti mandiamo via dal campo. È giusto, è un perdimento. Il nostro percorso del Tribunale. A me sembra un codice, posso dire questo? Meglio di no. Per certi versi è più ragionevole del dottor Nordio. Questo è garantismo. Io vorrei che il dottor Marco Travaglio prendesse appunti. Travaglio prendesse appunti su che cos'è il garantismo. In quel campo commetti un reato, ti chiamano, ti dicono scusa, potresti non farlo più, per favore? Giusto? È una forma di avvertimento. Io lo trovo civile. La trovo una famiglia. Non è che si condannano le persone così. Non si come avviene troppo spesso che alcuni tribunali. Però scusami. Questa è una forma. Ripetiamo però questo modello giuridico. Dimi caro Cruciani. No, il modello giuridico è questo. Cioè se uno commette un furto, voi lo scoprite, andate a prendere uomo o donna che sia. Lo convocate, giusto Bambalau? Lo convocate. Bravo Cruciani. Sì, bravo. Io non sono d'accordo. Però lo convocate e poi non lo punite la prima volta. Giusto? No, la prima volta viene... Facciamo un avvertismo. Un avvertismo. Un avvertismo. Un avvertismo. Io lo posso dirti. Bambalau, tu per me sei come fossi uno di famiglia. Io lo voglio abbracciare. Ti voglio un bene quando dice queste cose. Io lo adoro. Bambalau. Bambalau è un genio. Gli danno un avvertimento. Un'ammunizione. E soprattutto dite, dite, non portate la polizia dentro il campo. Questo è importante che hai detto Bambalau, giusto? Allora, noi siamo... Eh, questa l'hai detto prima, è importante. Cruciani, noi siamo... Etniae Roma... Sì. Romania. Sì, allora? Noi siamo venuti in Italia... Sì. ...con i pensieri puliti. Sì. Ecco. Sì. Non siamo venuti in Italia a creare situazioni... No, ma questo lo so. ...de difficoltà. Questo lo so. Però tu stai... Ripetiamolo, ripetiamolo. Tu stai dicendo però... Ho venuto a lavorare... Però stai dicendo che la polizia meno entra nel campo, meglio è. Questo stai dicendo. Bravo, Cruciani. Beh, bravo. E tutti i giorni la polizia, quando succedono delle cose brutte in quella zona, viene da me tutti i giorni la Bambalau, hanno rubato il computer, un telefonino. E allora... Non lo so che cosa hanno rubato. Vengono da me, Cruciani, mi mettono la vita in pericolo, caro mio. Cioè, perché tu dici... Perché io vado a chiedere queste cose dai bosniaci. E i bosniaci non vanno d'accordo con me, vengono con tutti i miei e parlano delle parole brutte. No, ha ragione, ha ragione. Tu dici che il problema è su adesso. Non creiamo. E a rubare sono i bosniaci, dici tu. Sì. Sì, lo pensi. Non è che si può dire così, per essere garantisti anche con i bosniaci, però. Sì, caro mio, non... Scusami. Ci sono dei rom che rubano lì dentro, tanti rom. Eh, lo vedi, tanti rom che rubano. Io lo so questo, io lo so questo. Tu fai bene a dirlo. Però a me sembra bello... Perdonami, perdonami se insisto, mi sembra un modello da prendere... Adesso si parla tanto di riforme, di presidenzialismo in Italia, no? Giorgio Avellone dice facciamo l'elezione diretta del Presidente della Repubblica. Tu sei d'accordo, Bambalau, con l'elezione diretta del Presidente della Repubblica? O del Consiglio? No, no. Non sei d'accordo. Oh, posizione di sinistra, netta, chiara. Sì, chiara. Troppi potenti. Invece, prendiamo il modello rom sulla giustizia, che è un modello nel quale la persona che viene richiamata, a me piace molto questo, quando uno fa un furto, viene richiamato, viene in qualche modo perdonato. Bravo. Ho capito, bravo. Questo è bello. Questo è bello. Certo che se qualcuno però commette un reato di sangue, cioè ad esempio ferisce una persona, lì è più complicato. Sì, sì, lì deve funzionare la legge italiana. Esatto. Mentre quando c'è il furto, il furto sotto una certa soglia, diciamo sotto i 10.000 euro, diciamo così. Bravo, sì, è vero. Bellissimo. Sotto i 10.000 euro vieni condonato la prima volta. Scusami, posso dirti? Io penso che gli amici di Forza Italia, ad esempio, ma non voglio dire nulla, debbano imparare da questo modello. Su una proposta di questo tipo, di condonare la prima volta, adesso non so, Forza Italia, lei chi vuole? Senti, fammi fare qualche domanda a Bambalauco. Così troviamo anche una certa familiarità di nuovo. Senti, la questione delle donne. Voi, un po' le donne da voi sono quelle che fanno i lavori di casa, Bambalauco, no? Diciamo la verità. Bravo, sì, è vero, Rucciani. Cioè, voi considerate la donna come una che naturalmente deve fare i lavori di casa, giusto, Bamba? Sì, sì, è vero. Non possono, cioè tu non ti immagini una donna rom che fa i lavori diversi da quelli di casa, o no? Rucciani, noi non ragioniamo come voi pensate, ma noi ragioniamo come voi. Esatto. La moglie deve stare a casa, se non hanno un lavoro, deve preparare i bambini, i nepotini per andare alla scuola, preparare a mezzogiorno da mangiare, la sera, lo stesso, andiamo a letto verso le undici di sera, guardiamo la tv, mettiamo i nepotini a dormire, facciamo delle cose che si fanno in casa. Guardate, la sera guardate. Tu i lavori di casa non lo fai quasi mai, i lavori di casa, tu l'uomo non li fa quasi mai i lavori di casa, diciamo, no? Come no, caro mio, io lavo tante volte, lavo le forchette, le cucchiaie, il piatto, faccio pulire la casa, lavo per terra. Una volta tu hai detto una cosa molto controversa da Del Debio, hai detto che gli uomini, il fatto che ci siano tante ragazze che vanno a fare i furti in metropolitana, è per colpa degli uomini che non le tengono sotto controllo, diciamo, no? Quello l'hai detto, quello l'hai detto, come se gli uomini dovessero tenere sotto controllo le donne, caro Bambalau, perché le donne alla fine sono come gli uomini o no? No, ci sono tante che non vogliono essere controllate, caro mio amico, fanno quello che gli pare, non è giusto. Ci sono dei rom che dicono, non andare a rubare, per favore, stai a casa, fermati, non andare a rubare, ci sono dei uomini che fanno questa cosa. E invece quelli che continuano ad andare a rubare, molte incinte però. Tante di loro non capiscono e vanno a rubare. Senti, tu mi hai detto già una cosa l'altro giorno fondamentale, che la parola zingaro per te non è una parola offensiva, e io sono d'accordo con te. No, siamo zingari, non dobbiamo avere vergogna che siamo rom, siamo zingari, così ha creato Dio questo mondo. Se io ti dico sei uno zingaro, tu non ti offendi, bravo. No, caro mio, no, no, dipende, dipende, un momento per favore, dipende in quale maniera mi lo dici. Bravo, hai capito? Non dobbiamo fare delle cose, non è giusto. Se uno ti dice vai via zingaro, quello è brutto. Mi arrabbio, mi cazzo. E ti cazzo e ti tiri una capocciata, legittimamente. No, no, rispondo con la parola ma non faccio. Ecco, non fai cose. Dentro il campo rom, caro Bambalau, tu sei del campo rom di via Candiani a Roma, un campo importante, un campo... No, via Luigi Candoni. Candoni, scusami, via Luigi Candoni. Ecco, questo campo rom, ci sono omosessuali dentro questo campo rom? Gay? Boh, questo non sappiamo. No, lo chiedo. No, no, caro mio. Perché? Via consessuali tu non li sopporti? Non è possibile. No, no, no. Perché non è possibile? No, cruciante. Perché non ci sono i gay, scusami? Perché no? Non lo so. Esisterà un rom gay? Ma da noi non esiste una cosa del genere. Come da noi? Perché esisterà un rom gay? Perché non può esistere un rom gay? No, no, al campo nostro no. No, ma in generale esisteranno tanti rom gay. Ci sono dei rom gay, ci sono. Sì, perché ridi Bambalau? Tu sei un po' bisessuale o no? Tu? No. Ti piacciono anche un po' gli uomini o no? No. Senti, volevo chiederti questo Bambalau, spesso il tuo amico Cruciani, perché a te piacciono i Cruciani in fondo, no? Benissimo. Io pure lo adoro. Il tuo amico Cruciani spesso qui propone delle cose in cui c'è la donna, lui ad esempio è felice se la sua fidanzata si accoppia con altre 30 o 40 persone. Non è. Sì, sì, questo è Cruciani. Non è giusto. Bravo, spiegano. Tagliamo la testa. Bravissimo! Come hai tagliato la testa? Tua moglie. Fagli la domandina. Adesso tua moglie, la tua moglie, la donna che tu ami. Se tu scopri che tua moglie ti tradisce, che fai? Adesso mi allontano dalla mia famiglia. non la voglio come moglie mai, ma se ero giovane e lei mai tradisce, tagliavo la testa. No, questo scusate. Noi siamo, Cruciani, siamo orgogliosi e gialossi. Ho capito benissimo. Tagliare la testa è gravissimo. Però vedi, Cruciani spesso dice che invece è normale che uno porti la propria donna a fare dei trenini, io chiamo delle porcherie, con altri 4 o 5 uomini. Adesso per lui è normale. No, no. È una schifezza, diciamolo chiaramente. Scusami, però torniamo sulla questione gay per chiudere, caro Bambalau. Per te gli omosessuali sono normali oppure sono malati? Io credo che sono malati, caro mio. Perché sono malati? Questo non si può dire, Bambalau. Io, come un uomo dei 60 anni, a me non mi piacciono queste cose. Un uomo gay non c'ha... Non c'ha cosa. Che non c'ha? Ha un altro gusto diverso dal tuo, Bambalau. Non c'ho parole. Ti fa schifo a te, ti fa schifo. Non posso condannare io questo, se lui vuole essere così. Voglio darti una grande notizia. Sto lavorando con un grandissimo regista italiano di cui non ti posso dire... Ti posso dire soltanto il nome. Si chiama Saverio. Sì. E con Camilla. Sì, sì. Con queste due grandi persone del cinema stiamo immaginando di fare una storia della tua vita. Io, virgola, Bambalau. Di fare un documentario dedicato a te. Beh, questo è bello. Saverio. Ti posso dire solo il nome. Saverio si chiama. Saverio, un importantissimo regista italiano. Stiamo studiando di raccontare in modo cinematografico la tua vita. Va bene. Scusami, d'accordo. Scusami, un'altra domanda ti devo fare. Un'altra domanda. Dunque, tu, due persone omosessuali che si sposano, per te è una follia? Ancora questa storia. Mamma mia, che domande mi fai? Perché fai queste domande? Eh, lo so, sono le domande della società di oggi, caro Bambalau. Tu devi immergerti nella società di oggi. Oggi ci sono un sacco di omosessuali che si sposano. A te questa cosa non piace? Diciamola chiaramente. No, mi piace. Non ti piace. Scusami, ma che posso dire le bugie? Carità, assolutamente, devi dire quello che pensi, assolutamente, quando uno dice quello che pensi io sono contento, sono molto contento di questa roba qua. Abbiamo un ultimo tema da affrontare con te, che è il tema delle nomine alla RAI. Ma chi se ne frega lui delle nomine alla RAI? Non gli interessa le nomine alla RAI. Dicono che Porro e Del Debbio potrebbero andare alla RAI, nominati dal governo Meloni. Dai, facciamola. A te Del Debbio piace? Sì, Del Debbio. No, Del Debbio è un grande personaggio della televisione italiana. È vero, è vero. Deve rimanere lì dove sta adesso. Ah, vero, bravissimo. Perché lui è un uomo di una rara umanità. È vero. È verissimo. Senti, che cosa guardi in televisione? Chi ti piace di più della televisione? La Sette, ovviamente Parenzo lo guarda in TV il sabato. Scusami, caro Cruciani, io guardo la televisione rumena perché ho a casa un'antenna che guardo la televisione rumena. Quando avevo televisione italiana, guardavo Rete 4, Italia 1, RAI 1, RAI 7, RAI 2, RAI 3. Vabbè, è chiaro, tutte, guardi, tutte. Però il telegiornale preferito era quello condotto da Enrico Mentana. Ma non è vero, non sa neanche chi è Mentana. Non lo sa perfettamente. Lo conosco da televisione. Da televisione, certo. Mi hai fatto scordare l'ultima domanda che volevo fare a Bambalau. Sei incredibile, volevo fare un'ultima domanda a Bambalau. Posso dirti, per me è la puntata più bella dell'anno questa, per me si corona un sogno. Cruciani, ricordati caro mio che sto da 30 anni in Italia, io leggo tutti i giorni, il giornale, le riviste, i libri. Scusami, chi sei tu? Per chi preferisci, Putin o Zelensky? Da che parte stai tu? Da che parte stai? Dimmi la verità. Ma certo. Adesso ragioniamo quello che è corretto. Ragioniamo. Sì, ragioniamo. Sì. Bravo. Se io vengo nella casa tua, non è giusto, Cruciani. E allora? È un'invasione. Allora, America, Nato, non sta facendo una cosa bella. Lasciate Ucraina e la Russia e i russi e prendiamo l'Europa de West e basta con questa Russia. Ma Bambalau non è possibile, l'Ucraina è stata invasa dai russi, fratello mio. Ah, l'è stata invasa dai russi perché vuole prenderla all'America. Ma Bambalau lo vedi? Bravissimo Bambalau, grande Bambalau, grandissimo. Dunque, la colpa è tutta della Nato e dell'America. Dillo, Bambalau. No, dirò questo che c'ho paura. Ah, però l'hai pensato, lo dici. Grazie Bambalau, grazie di essere stato con noi. Grazie, Inno Italiano. Inno Italiano, inno Italiano. Alza di tutto i piedi con Bambalau. Vai, alza di Bambalau. L'inno Italiano, lo conosci? L'inno Italiano, Bambalau. Come? L'inno Italiano, lo conosci? L'inno Italiano, lo conosci? Sì, sì. Vai, cantalo, cantalo con noi. Resta seduta, canta con noi. No, no, non lo so cantare. Ma come? Devi diventare cittadino italiano, non conosci l'inno Italiano, Bambalau. Ma lui è già italiano. Ma secondo te i leghisti sanno l'inno Italiano, ad esempio? Dai, su. Sì, lo sapranno forse. Fratelli. Allora, scusami. L'Italia. L'Italia. Non sai le parole, caro Bambalau. Ma è una tragedia questa. Devi diventare italiano, non sai l'inno Italiano, caro Bambalau. È una tragedia questa. Diciamogli l'inno Rom almeno. L'inno Rom, scusa. Eh, non lo so, l'inno Rom. Non lo so, l'inno Rom. Com'è l'inno Rom? C'è uno? C'è, ma no. Ecco, senti che bello, questa musica gitana. Senti che bello. Senti che bello. Aspetta che la sta riconoscendo. Si sta emozionando. Aspetta. Senti che roba, eh? Non ti fa venire i brividi, guarda, Bambalau. Ma che cazzo è sta roba? La musica Roma? Non è musica Roma. Non è musica Roma. Giù, giù, giù. No, no, no. Niente, niente. Caro Bambalau, ti saluto e ti abbraccio. Ci vediamo domani, credo, eh. Ci vediamo domani in collegamento, credo. Va bene, Cruciani, va bene, caro mio. Un abbraccio, amico mio. Un abbraccio, amico mio. Ciao, carissimo. Mi ha fatto piacere. Un abbraccio, sei un gigante, sei uno statista, mi raccomando. Avanti tutto, non mollare. Metti ordine in quel campo. Non mollare mai. Metti ordine in quel campo, mi raccomando. Ordine nel campo Roma. L'ordine di Bambalau. L'abbiamo sentito qual è l'ordine? Se uno sbaglia una volta, niente polizia, niente polizia. Convocazione e perdono. La seconda volta in galera, giusto? Così, Bambalau? Avanti tutto. SPS Italia. E chi se ne frega se ti do sui nervi? Chi se ne fotta se ti do sui nervi? Momento storico. Allora, volevo ringraziare la compagnia Pronto Taxi 6645. Ottimo. Che con grande... Non è una marchetta questa, anzi. No, assolutamente. Che sono andati a prendere Bambalau davanti al Campo Roma e lo hanno portato a destinazione. Adesso lo riprenderanno sotto la radio e lo riporteranno al Campo Roma. Sportato. Assolutamente, sempre ascoltato. Un corteo presidenziale come quello di POTUS, come quello del presidente americano, uguale. Io devo dire che la presenza di Bambalau ha alzato il livello di questa trasmissione. Questo te lo devo dare, devo darti atto. Ho avuto un'idea geniale. Io, virgola, Bambalau. Cosa devi dare atto? Sta già diventando un film. Sta già diventando un film. Ci sono registi. Andraol. È come Martin Luther King alla fine. Hanno fatto il film su Martin Luther King. Sì o no? C'entra però adesso. Hanno fatto il film su Mandela. A Bambalau non ha fatto nulla. Per quale motivo queste piattaforme in mano agli americani, Netflix, Amazon, non devono produrre un film su una grande storia? Su un uomo che sta facendo? Cioè questa cosa del diritto, la concezione del diritto di Bambalau. una cosa all'avanguardia assoluta. Sì, diciamo la verità che dopo quello che ha detto sugli americani, qualche problemino ci potrebbe essere. Questo lo so. Però abbiamo qui, ve lo presento perché voglio subito dare un tocco di... Però del resto, scusami, anche la posizione che ha il dottor Bambalau è molto simile a quella, non si arrabbi, del professor Orsini ad esempio. Sì, assolutamente. Il fattuale, il dottor Bambalau ha detto che c'è una provocazione della Nato. Il professor Orsini ha detto un po' di più, come dice anche Orsini. Che io rispetto perché ha una posizione, ha studiato... Posso dire che è fattuale, che coincidono le due posizioni, Bambalau e Orsini. Il dottor Bambalau oggi ha detto che è la provocazione della Nato. Io non condivido questa ipotesi ad esempio, non la condivido in modo più assoluto. Allora, festeggia dieci anni dal suo esordio diciamo più famoso.